Tra dieci minuti sono da te. Allora hai parlato con tua moglie. C'è qualcosa che non va. Maledizione! Paesaggi incantati. Storie che appassionano e fanno sognare. Tutte le sfumature dell'amore, firmate Rosa Montilcher. La persona che lo ha mandato in servizio quel giorno. A mio marito sulla coscienza. Come mai non era a bordo dell'elicottero? Una storia complicata. Venerdì in prima serata, sulle 5.